Il nostro viaggio, nelle storie di donne e nella storia di Martina, comincia poco più di 700 anni fa, precisamente il 1260, la data del più antico atto notarile. Sulla cima di una collina, fra Taranto e Monopoli, vi è Castrum Martine, costituito da una residenza fortificata, alcune chiesette e tante casupole. È quello che rimane di un antico casale longobardo, servito da rifugio ad alcuni profughi tarantini, sfuggiti ad un feroce assalto dei turchi. Sul trono di Napoli si edono Carlo II d'Angio e Maria d'Ungheria. Dalla coppia reale nascono 13 figli. Il quinto genito, Filippo, diviene nel 1294 principe di Taranto. Filippo sposa Itamar, figlia del re dell'Epiro, e ha da lei quattro figli. A causa di successive contese, Filippo ripudia Itamar per un matrimonio più conveniente con Caterina di Valois-Courtenet, che porta in dote il titolo di imperatrice di Costantinopoli. Filippo vuole anche il territorio, oltre che il titolo. Avvia quindi la sua marcia di conquista, creando delle cittadelle fortificate. Nel 1310, il piccolo Castrum Martine diventa ufficialmente terra, con numerosi abitanti, provenienti anche dai casali vicini, allettati dalle robuste fortificazioni e dalle franchigie istituite dal principe Filippo. Alla morte di Filippo II d'Angio, figlio di Filippo I, non ci sono eredi. Molti feudatari fanno guerra fra loro, fino a quando il giovane Raimondello del Balzo Orsini conquista il titolo di principe di Taranto. Raimondello sposa Maria Denghien, contessa di Lecce, erede di molti titoli e territori, e accresce enormemente il suo potere. Intraprende quindi una campagna militare per allargare i suoi domini, conquistando Locorotondo, Putignano e Martina. A Martina, nel 1388, Raimondo costruisce, vicino alla porta di Santo Stefano, un castello da difesa di forma pentagonale, con le torri agli angoli. Nel 1406, Raimondello muore e il principato di Taranto va a sua moglie Maria. Il re di Napoli tenta in tutti i modi di togliere alla vedova il principato e, non riuscendovi, chiede di sposarla. Maria accetta e sposa Ladislao, divenendo regina di Napoli. Comincia intanto l'ascesa degli Aragonesi e, con il loro appoggio, Giovanni Antonio del Balzo Orsini, figlio di Raimondello e Maria, diviene in breve padrone assoluto di un vastissimo territorio. Ai primi del Cinquecento, spagnoli e francesi entrano in guerra per occupare il regno di Napoli. Nel Meridione predominano gli spagnoli. Nel 1507, il re Ferdinando il Cattolico concede in feudo a Petracone III Caracciolo la terra di Martina. Il conflitto franco-spagnolo si protrae a lungo. È il 16 giugno del 1529. A Martina giungono soldati mercenari alla ricerca di alloggiamenti. I martinesi decidono di chiudere le porte e di difendersi con ogni mezzo. I soldati tentano il sacco della città senza riuscirci, grazie al coraggio di tutti i cittadini, anche delle donne, e all'intervento miracoloso di San Martino. Nel 1647 scoppia a Napoli la rivolta di Masaniello contro gli spagnoli. L'eco di questa rivolta giunge a Martina, ma è spenta dal duca Francesco I Caracciolo che si trasferisce nella cittadina pugliese per tenere sotto controllo il suo ducato. Alla morte di Francesco I succede il figlio Petracone V che decide di far costruire il palazzo ducale proprio lì dove un tempo sorgeva il castello eretto da Raimondello Orsini. Petracone V sposa Aurelia Imperiali dei principi di Francavilla, donna devotissima che si mette con grande abnegazione al servizio dei poveri della sua città occupandosi anche delle fanciulle traviate o senza dote. Per sua volontà nel 1725 nasce il complesso monastico delle monacelle o delle monache piccole per ospitare queste fanciulle, per insegnare loro le cosiddette arti donnesche e munirle di dote in caso di matrimonio. Petracone è un onorato cavaliere, ma altero e avarissimo. Costringe le figlie ad entrare nel severo monastero di clausura intitolato a Santa Maria della Purità, quello delle monache grandi, mentre riserva al primo genito Francesco la successione del ducato di Martina. Francesco II prosegue nella costruzione del palazzo ducale e lo arreda e lo decora sostenendo enormi spese. Mentre ferve la vita a palazzo ducale si afferma in Martina una classe di artigiani e di ricchi proprietari terrieri. Nel secolo dei Lumi, in questo clima di fiorente attività architettonica, oltre che artistica e culturale, testimoniata dagli splendidi palazzi barocchi della città, esercita il suo ingegno e la sua arte pittorica Suor Maria di Gesù Martucci, monaca bizzoca, cioè monaca di casa. Figlia di un ricco possidente, monaca come le altre cinque sorelle, con un fratello sacerdote e un altro chierico, Maria vive la sua vita dedicata al Signore dipingendo quadri a carattere prettamente religioso. Una pietà, la Madonna del Carmelo, Santa Elisabetta d'Ungheria, portano fino a noi il silenzioso messaggio di questa rassegnata e obbediente figlia dalla mano d'artista. L'ultimo duca di Martina è Placido Caracciolo. Viene privato del feudo nel 1806, anno in cui il re di Napoli, Giuseppe Bonaparte, abolisce il sistema feudale. L'Ottocento è il secolo dei briganti in tutto il regno delle due Sicilie. Martina non viene risparmiata da questo fenomeno, tanto che fioriscono leggende su brigantesse e briganti rifugiati sui monti dell'Orimini. Intanto il sindaco Fighera e i suoi collaboratori, proprietari, commercianti, professionisti e uomini di cultura, portano Martina verso un rinnovamento che pone le basi per la crescita sociale e culturale del XX secolo. Un secolo che Martina dedica alla musica con la nascita nel 1975 del Festival della Valle d'Itria e con il mito indimenticato dell'estroso violino di Gioconda De Vito. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.